amici buongiorno ben ritrovati siamo pronti con una nuova avventura adesso si abbiamo catturato il fantasma quindi adesso fantasma gigante nel sciamello praticamente innocuo non fa niente perché sta tutto sedato allora stiamo in un momento di relax abbiamo le macchine che stiamo sistemando le nostre ecio 1 e poi abbiamo lecio 1 a poi tutti quanti gli acchiappa fantasmico tutti quanti gli abitanti di new york sono in un momento di relax allora stanno mangiando anche qualche panino sì 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 chi è igor che sta facendo merenda col panino ecco la raggiunta ecco la raggiunta quindi un momento di relax qui nella tranquilla città di new york insomma tranquilla mica tanto ma ci sono un sacco di fantasmi non è troppo tranquilla new york e quindi adesso ci dobbiamo dobbiamo sistemare un attimino gli zaini gli zaini al plutonio per farci trovare pronti farci trovare pronti nel caso di di qualche assalto qua c'è un acqua c'è tutto quanto il panino con gli hot dog no però questo qua invece è un panino un panino con l'hamburger ah sì sì panino con l'hamburger come lo facciamo noi sì sì come ce lo mangiamo noi sì sì poi qua che cosa abbiamo che cosa abbiamo qua teniamo questa che cos'è questa è la maionese vedete il tubetto della maionese guarda qua piccolissimo ma c'è per caso pure il ketchup sì sì ma fai vedere eccolo qua dietro dietro fai vedere ma bellissimo questo carrettino attenzione però e poi c'è mettilo qua mettilo qua mettilo qua il ketchup con la coca cola ah ah ma geni per caso va pure le patatine pure le patatine fritte fai vedere se la riesco a cacciare prendi sennò sa che si può prendere ma non c'è il menù cade sempre guarda una cosa incredibile ma non c'è il menù cade sempre guarda una cosa incredibile aspetta lo poggiamo qua facciamo così lo poggiamo qua aspetta qua teniamo abbiamo detto il panino con l'hot dog qua teniamo che su questi altri altri e poi facciamo così aspetta 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 che le sto prendendo con la pinza vediamo un attimo ci vuole una manina una manina piccola di qualche bambino ci vorrei niente non ci riesciamo e allora facciamo così così ci riesci eh chissà ecco qua ce l'abbiamo fatta quindi avevamo tutti quanti le patatine le abbiamo prese le bibite le a bibite va soltanto la coca cola teniamo ma teniamo pure l'aranciata ah teniamo pure l'aranciata e togliamola mettiamole tutte qua eh no già l'abbiamo fatta qui mettiamo qua ecco qua quest'altro panino con l'hot dog e poi papà ho visto un'altra cosa che ci sono un sacco di bottiglia ah la maionese pure l'avevamo messa qua ho visto un sacco di bottiglie che stavano qua sotto ah riesci tu a togliere papà no e come mai eh sono messe proprio perché sono di vetro quindi per non farle rompere giusto no vabbè abbiamo recuperato teniamo le bottiglie le bottiglie nel cestino io se l'acqua frizzando naturale no eccole qua uno quando ne abbiamo uno due tre tre quattro quattro e teniamo sei cinque e sei sei ma fammi raccontare uno due tre quattro cinque sei sì sì quattro cinque sei perfetto allora il carrettino va bene è tutto ok adesso che cosa dobbiamo mettiamo tutto quanto a posto sì ce li diamo tutti quanti ai nostri amici ghostbusters che stanno mangiando perché dopo aver catturato tutti quanti i fantasmi ecco papà sistema tutto stai facendo un buon lavoro e qua il carrettino degli hot dog stai facendo un ottimo lavoro papà sì ok perfetto ok ora mi è invece uno pure tutto a posto tutto quanto gli zaini stanno tutti quanti caricati li dobbiamo un attimo sistemare un poco eh perché dopo ho fatto tutti quanti questi questi interventi aspetta un attimo vale metto un attimo così eh giusto due minuti vedo un attimo se funzionano pure le le luci eh sì sì no no le luci funzionano è tutto ok eccole qua mamma mia questo qua che fantasmi lasciamolo qua è simpatico simpatico questo fantasmino è una mucca a forma di fantasma una mucca a forma di fantasma ammazza ho capito abbiamo anche io mi posiziono eh ok questa qua abbiamo detto lei su uno poi dopo 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 allora apriamo un attimo qua vediamo che cosa teniamo ti passate una cosa? eh dici papà ma comunque quando abbiamo finito questo video dei gommi bassa facciamo un altro video sì certo 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 tantissime ne dobbiamo fare ok allora procediamo un attimo qua apriamo lecio 1 che cosa troviamo dentro lecio 1? troviamo tantissimi zaini e la trappola e le trappole ok vediamo un attimo gli zaini questi quali sono? gli zaini al plutonio quelli 1 plutonio 1 quelli vecchi eh vecchi sì 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 allora vediamo un attimino come si agganciano sulle spalle dei ghostbusters a chi lo vogliamo mettere lo zaino? chi prendiamo? chi prendiamo? Peter? beh ci mette così ma non lo voglio schiacciare eh fai piano piano perché no e fai vedere come funziona perché altrimenti che ne sanno? vediamo vediamo metti schiaccia 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 zank e ora lo leviamo qua eh sì dopo lo leviamo mettiamolo qua ecco qua abbiamo messo a U poi chi teniamo ancora? noi vogliamo mettere qualcun altro? no no a Peter per esempio Peter Wingman no nessun altro nessun altro? no e allora adesso che facciamo? adesso facciamo vedere l'altra macchina ok carissimi 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 abbiamo ciao carissimo allora papà abbiamo aperto le ciume abbiamo gli zaini sia quelli là normali e sia quelli là per quanto riguardano ah ma fai vedere quest'altro come funziona scusa puoi fai vedere un attimo come funziona quest'altro no si apre da solo si apre con le gambe così si può si può avvitare ci muove pure la testa questo qua pure è pauroso ma è bravo è cattivo è cattivo pure questo no ma è bravo ah è bravo vabbè ma comunque teniamo tutti quanti i nostri amici Ghostbusters che sono pronti per una nuova avventura allora papà vogliamo chiudere le macchine accendiamo le sirene e salutiamo i nostri amici si e ci diamo appuntamento con il prossimo video si con il video dei giornaletti si ragazzi ci diamo più tardi bravo bravo ci diamo più tardi appuntamento facciamo un attimo una carrellata su quelle che possono essere tutte quante le prossime idee per il regalo di Sergio perché tra poco è il compleanno di Sergio quindi dobbiamo scegliere un attimo il regalo allora questo qua togli metti il tetto metti il tetto qua io lo metto con lo zaino allora papà Musa che cosa facciamo allora accendi le sirene accendi le sirene accendi le luci salutiamo i nostri amici ci vediamo ci vediamo nel prossimo video che giornaletti per il compleanno esatto dobbiamo scegliere il regalo di Sergio ciao ciao ragazzi